Non c'è speranza, mormorò rassegnato Whedon Scott. Sedeva sui gradini della capanna e guardava il compagno che rispose con un'alzata di spalle altrettanto rassegnata. Entrambi lanciarono poi un'occhiata a Zanna Bianca, che legato a una catena, rizzava il pelo e ringhiava con aria feroce tirando con foga in direzione dei cani da slitta. Grazie a numerose lezioni che Matt aveva impartito loro con l'aiuto del bastone, i cani avevano imparato a non molestare il lupo e se ne stavano dunque sdraiati a una certa distanza apparentemente dimentichi della sua esistenza. È un lupo e non c'è modo di addomesticarlo, annunciò Whedon Scott. Oh non saprei, obiettò Matt. Per quel che ne sappiamo potrebbe anche avere un bel po' di sangue di cane. Di sicuro però so una cosa, su questo non c'è dubbio. Il conducente di slitte fece una pausa e annuì amorevolmente a Moo Seed Mountain, uno dei cani della muta. Beh, non siate avaro con quel che sapete, lo incalzò Scott dopo un'attesa che gli parve sufficientemente lunga. Sputate il rospo, cos'è fuori di dubbio? Il compagno indicò Zanna Bianca con un gesto del pollice. Cane o lupo, non fa differenza, è già stato addomesticato. Ma andiamo. Vi dico di sì e ha già anche portato alla bardatura. Guardate un po' lì, vedete i segni dei finimenti sul petto? Matt, avete proprio ragione. Prima che Smith il bello gli mettesse le mani addosso, questo era un cane da tiro. E non vedo per quale motivo non dovrebbe tornare a esserlo. Credete davvero? Chiese Scott con fare ansioso. Ma la speranza si affievolì di nuovo, mentre aggiungeva scuotendo la testa. Sono due settimane che è con noi e se proprio devo dire il vero mi sembra che in questo momento sia più incattivito e selvaggio di prima. Dategli una possibilità, fu il suggerimento di Matt. Liberatelo per un attimo. L'altro lo guardò con aria incredula. Sì, ripete Matt. Lo so che ci avete già provato, ma senza un bastone però. Fatelo voi allora. Matt afferrò un bastone e si diresse verso l'animale incatenato. Zanna Bianca fissò l'arma con l'espressione di un leone in gabbia che osservi la frusta del domatore. Vedete? Non lo perde di vista un secondo, disse Matt. È un buon segno. Vuol dire che non è stupido. Non oserà attaccarmi finché avrò il bastone in mano. Eh no, non è affatto stupido. Mentre la mano dell'uomo si avvicinava al collo del lupo, Zanna Bianca rizzò il pelo ringhiando e si accucciò a terra. Ma intanto osservava la mano, continuava a tenere d'occhio il bastone minacciosamente sospeso sopra la sua testa. Matt staccò la catena dal collare e arretrò di qualche passo. Zanna Bianca stentò a rendersi conto di essere libero. Erano passati molti mesi da quando era finito nelle mani di Smith il Bello e per tutto quel periodo non aveva conosciuto un solo attimo di libertà tranne durante i combattimenti con gli altri cani e anche allora, immediatamente dopo, veniva legato e imprigionato. Non sapeva come comportarsi. Forse gli dèi erano in procinto di perpetrare qualche altra diavoleria a suo danno. Si mosse ad agio, con cautela, pronto a subire un assalto da un momento all'altro. Non sapeva proprio che fare, non gli era mai capitato prima di trovarsi in quella situazione. Evitò innanzitutto di dirigersi verso i due che lo stavano osservando e si avviò in direzione dell'angolo della capanna. Non accadde nulla. Era veramente perplesso. Tornò indietro e si fermò a pochi metri dagli uomini fissandoli. «Non scapperà», chiese il suo nuovo padrone. Matt si strinse nelle spalle. «Bisogna pur correre il rischio, è l'unico modo per scoprirlo». «Povero diavolo», mormorò Scott impietosito. «Gli manca l'affetto di qualcuno», aggiunse poi. E giratosi, entrò nella capanna dalla quale uscì poco dopo tenendo un pezzo di carne nella mano. Lo tese al lupo, il quale si spostò con un balzo, fermandosi a osservare con sospetto un po' più in là. «Ehi, ehi tu, Major!», gridò Matt, ma era troppo tardi. Major si era lanciato sulla carne. In quello stesso momento zanna bianca sferrò l'attacco rovesciandolo a terra. Matt intervenne senza perdere tempo, ma zanna bianca fu più veloce di lui. Major barcollò rimettendosi in piedi, ma dalla golla gli usciva un fiotto di sangue che tingeva la neve con una scia rossa sempre più grande. «Accidenti, non ci voleva, però se l'è meritato», commentò Scott. Ma il piede di Matt era già sollevato per colpire zanna bianca. Vi fu un balzo, un balenare di denti e un grido di sorpresa. Ringhiando ferocemente, il lupo rotolò indietro per alcuni metri mentre Matt si fermava a controllarsi la gamba. «Mi ha beccato in pieno», annunciò indicando i pantaloni e la calza strappati e la macchia di sangue che si allargava. «Ve l'avevo detto che non c'era speranza, Matt», commentò Scott con aria mortificata. «Ci ho pensato a lungo e con dispiacere, ma non resta proprio altro da fare, è l'unica soluzione». Mentre parlava, estrasse con gesto riluttante la rivoltella, aprì il tamburo e ne verificò il contenuto. «Sentite, signor Scott», si oppose Matt. «Questo cane ha vissuto in un inferno, non potete pretendere che ne sia uscito pulito come un angioletto. Lasciategli un po' di tempo». «Date un'occhiata a Major», disse l'altro. Il conducente delle slitte andò a controllare il cane ferito. Si era accasciato sulla neve entro il cerchio del suo stesso sangue e stava per tirare l'ultimo respiro. «Se l'è meritato, l'avete detto voi, Scott. Ha cercato di rubare la carne di zanna bianca e l'ha pagata cara. Dovevamo aspettarcelo. Non darei un soldo per un cane che non si batte per il proprio cibo». «Sì, ma guardate come siete conciato voi, Matt. Lasciamo stare i cani. Il fatto è che bisogna trovare una soluzione». «Me lo sono meritato anch'io», ribatté Matt con fare cocciuto. «Perché dovevo dargli un calcio, in fin dei conti. L'avete detto voi che Major se l'è cercata, quindi non avevo motivo di colpirlo». «Ucciderlo sarebbe solo un atto di pietà», insiste Scott. «È indomabile». «Sentite, signor Scott, credo che dovreste lasciargli un'altra possibilità. Finora non ne ha mai avute veramente. Ne ha passate di tutti i colori e questa è la prima volta che viene liberato. Siamo giusti con lui e se poi non dovesse proprio sottomettersi, ci penserò io stesso a ucciderlo. Promesso». «Dio sa quanto poco mi piaccia l'idea di sparargli o di farlo ammazzare», rispose Scott rimettendo via la pistola. «Lo lasceremo libero e vedremo cosa potrà fare per lui un po' di affetto. Ecco, questo sarà il primo tentativo». Si diresse dunque verso Zanna Bianca, rivolgendogli sì con tono gentile e affettuoso. «Meglio tenersi un bastone a portata di mano», avvisò Matt. Scott scosse la testa e proseguì, nella speranza di guadagnarsi un po' di fiducia da parte del lupo. Zanna Bianca era sospettoso. Di certo stava per capitargli qualcosa. Aveva ucciso il cane di quel dio, aveva ferito il suo compagno e dunque cosa poteva attendersi se non una meritata punizione. Ma ciò nonostante continuò a mostrarsi fiero e impavido. Rizzò il pelo e scoprì i denti, gli occhi vigili, l'intero corpo in atteggiamento di guerra pronto a reagire. Ma il dio non era armato di bastone, quindi lo lasciò avvicinare più del solito. Adesso la mano del dio stava abbassandosi sulla sua testa. Zanna Bianca si accucciò a terra ai muscoli tesi. Era una situazione ambigua. Doveva nascondere qualche pericoloso e misterioso trucco. Conosceva bene le mani degli dèi, la forza del loro dominio, la loro capacità di infliggere il dolore. Inoltre, in lui sopravviveva sempre un po' dell'antica avversione al tocco. Ringhiò minacciosamente, appiattendosi ancora di più a terra, ma la mano non smise di abbassarsi. Non voleva morderla, dunque si dispose ad affrontare il pericolo che rappresentava, fino a quando i suoi istinti tornarono a ribellarsi e a prendere il sopravvento. Whedon Scott si era creduto abbastanza veloce da riuscire a evitare qualunque morso e attacco da parte del cane, ma doveva ancora fare la conoscenza dell'incredibile rapidità di Zanna Bianca, che lo colpì con la precisione e lo scatto di un serpente. Scott, sorpreso, lanciò un grido stringendosi la mano ferita con quella sana, mentre Matt gli balzava al fianco imprecando. Allora Zanna Bianca tornò ad abbassarsi e indietreggiò ruffando il pelo, i denti scoperti e gli occhi pieni di minaccia. Adesso sì che gli sarebbe toccata una punizione ancora più grande di quelle ricevute da Smith il Bello. «Venite qui, cosa intendete fare?» gridò Scott all'improvviso. Matt si era affiondato nella capanna e nera riemerso imbracciando il fucile. «Niente», rispose ad agio con una calma solo apparente. «Voglio solo mantenere la promessa che ho fatto. Immagino spetti a me ucciderlo adesso». «Non fatelo!» «Sì, invece, state un po' a vedere». Così come Matt aveva chiesto pietà per Zanna Bianca quando era stato assalito, venne ora il turno di Widon Scott di chiedere pietà per l'animale. «Avete detto che volete dargli una possibilità? Ebbene, dategliela allora. Abbiamo appena cominciato, non possiamo rinunciare proprio adesso. Questa volta me la sono andata a cercare io e...» «Attento!» Dall'angolo della capanna, a pochi metri di distanza, Zanna Bianca aveva ripreso a ringhiare con inusitata ferocia, ma non più in direzione di Scott, bensì verso il conducente di slitte. «Dannazione che il signore mi fulmini!» fu la sua esclamazione di stupore. «Ma guardate che intelligenza!» proseguì Scott con foga. «Conosce l'azione dei fucili come la conosciamo noi? È intelligente, vi dico, e perciò gli dobbiamo dare una possibilità. Mettete via quell'arma». «Ok, ci sto», dichiarò Matt appoggiando il fucile contro la catasta di legna. «Ma tenetelo d'occhio», aggiunse un momento dopo. Zanna Bianca si era calmato e aveva smesso di ringhiare. «Merita un'altra prova, state a guardare!» Matt tornò ad allungare la mano verso il fucile e subito Zanna Bianca riprese il ringhiare. Poi si allontanò dalla catasta di legna e il lupo abbassò le gengive, ricoprendo i denti. «E adesso ritentiamo ancora». Matt afferrò il fucile e minacciò di portarselo alla spalla. A quel gesto Zanna Bianca cominciò a ringhiare e ringhiò sempre più forte mentre il fucile saliva in posizione di mira. Ma un attimo prima che la canna si puntasse su di lui, si nascose con un balzo dietro l'angolo della capanna. Matt rimase a guardare lo spazio vuoto sulla neve dove fino a un istante prima c'era il lupo. Il conducente di slitte ripose allora il fucile con aria solenne, si voltò e guardò diritto negli occhi il padrone. «Sono d'accordo con voi, signor Scott. Quel cane è troppo intelligente per essere ucciso».